Nuova puntata di Focus Periferie, eccoci in quello, tutti lo riconoscono, buongiorno a Walter Cherubini, buongiorno a nostri ospiti che poi andremo a conoscere meglio, è inconfondibile il monumento ai martiri di Gorla che abbiamo qua, i piccoli martiri giusto? Esattamente, i piccoli martiri perché appunto ci fu il bombardamento, errore o non errore della bomba, sta di fatto che sono morti... Il 20 ottobre 1944 appunto, questo fu un fatto tragico di quel di Gorla. Gorla che nel 1944 era parte integrante del comune di Milano ma che fino al 1923 era un comune a parte, un comune autonomo e quindi andiamo a scoprire meglio che cosa significa Gorla insieme a Carlo Cella, buongiorno, buongiorno, e a Enzo Parmigiani, buongiorno, entrambi di Gorla Domani che, prima scherzando dicevo, beh sicuramente voi guardate, sicuramente al futuro, se no l'aveste chiamata Gorla Ieri, invece Gorla Domani perché Gorla è sia ieri tragico passato, sia un passato bello anche perché insomma la martesana e tutto quello che ne riconsegue, ma è anche un futuro giusto? Certamente, corretto, giusto. E cosa si può vedere così, se ci viene in mente nel futuro di Gorla, cosa può esserci? Nel futuro di Gorla ci dovrebbe essere uno sviluppo del terziario, dei servizi, ci sono sicuramente delle nuove realtà che stanno arrivando sul territorio, piccole però sicuramente stanno arrivando. non so se ci sarà un ulteriore sviluppo della distribuzione commerciale ampia, cioè ci dovrebbe essere un nuovo supermercato ancora qui vicino. Perfetto, allora intanto incamminiamoci in quel di Gorla, 1923, annessione del comune di Gorla, come era stata presa questa annessione dai cittadini? Camminiamo intanto, camminiamo, camminiamo. Ovviamente, ovviamente. Non ci ricordiamo perché non ce l'avamo, però da quello che ci è stato tramandato non erano molto entusiasti, sia negli cittadini di Gorla che di Precotto, perché era già insieme il comune di Gorla-Precotto. Perché appunto un'annessione precedente, un'i giusto Walter, il comune di Gorla-Precotto. Ecco, ma quella lì fu un'aggregazione tecnica per cercare di diventare più grossi e non farsi aggregare l'ubano. Non è andata bene però alla fine. E diciamo che è cambiato anche il sistema politico e quant'altro e quindi c'erano più situazioni di imperio, chiamiamole così, e quindi vennero aggregati assieme appunto agli altri dieci comuni. E parlando di comune, qui alle nostre spalle abbiamo la vecchia sede del comune, giusto? La vecchia sede del comune, esatto. Sì. Importante Walter per un ex comune come questo, quello di avere ancora la vecchia sede, perché il tema delle vecchie sede comunali è un tema importante, giusto? Allora, il tema delle vecchie sedi comunali, diciamo così, le sedi comunali hanno svolto una funzione civica e sociale quando erano sede degli antichi comuni. Ma poi questi edifici, in alcune non ci sono più tipo vigentino piuttosto che l'antico comune di Afori, però... O Lambrate abbiamo visto anche. Anche Lambrate, esattamente. C'è un pacchetto a ricordarmi. C'è un giardino al posto della sede dell'antico comune. Invece sono rimaste tutta un'altra serie di sedi antichi comuni, per esempio, noi abbiamo la sede dell'antico comune di Musocco, dove c'è la Croce Verde, Sempione, una volta si chiamava Musocco. Abbiamo la sede dell'antico comune di Baggio, dove c'è la Croce Verde. E allora... C'è ancora. Ecco, ha detto Crescenzago, cosa posso dire su Crescenzago? Crescenzago e qui entriamo in un mare un pochettino tempestoso. Allora, che cos'è che è successo? Quindi, come noi vediamo dagli esempi che dicevo prima, Croce Verde di Baggio, Croce Verde e Sempione, questa funzione sociale e civica, che c'era una volta, continua, e infatti loro continuano a aiutarci, a soccorrerci quando non stiamo bene. Dopodiché abbiamo un paio di sedi... Una di queste è questa qua alle nostre spalle. Questa è già stata venduta, è un'altra proprietà. Ma noi invece abbiamo un altro paio di sedi, che sono esattamente l'ex sede del comune di Crescenzago e anche quello di Chiaravalle Milanese, che rischia un po', dove nella sede dell'antico comune di Crescenzago ci sono l'antica banda di Crescenzago che suona al pari della banda d'afri dal 1894. Poi ci sono anche le Gambiente, c'è l'ampi di Crescenzago, quindi che svolgono tutte un presidio e una funzione sociale, chi musicale, chi culturale. Dobbiamo difenderle, poi, questi presidi. Il problema di fondo è che noi, e il comune di Milano, la nostra città nel suo complesso di amministratori, ma anche i cittadini, puntano molto che ci siano dei luoghi dove c'è animazione. Solamente è che il comune, se la sta vendendo la sede, tenuto conto che il comune di Milano, noi milanesi, siamo proprietari di tantissimi edifici che non sono utilizzati. Invece lì dove si svolge una funzione, proprio il centro vitale di Crescenzago, sul Martesana, si vuole vendere. Un rischio analogo lo sta anche correndo l'antica sede del comune di Chiaravalle milanese, dove anche lì ci sono delle presenze sociali. Ecco che allora parlare delle sedi non è improprio. E non è solo un luogo, non è solo una casa, ma è proprio un presidio. Ed è anche una continuità, perché se noi prendiamo appunto la banda di Crescenzago, ha attraversato più di cento anni di storia e quando ne parliamo di identità, cose del genere, ma l'identità chi è che ce l'ha? Esattamente, chi è rendendo la possibilità. E allora, Enzo, adesso ti rubo un attimo, vieni con me, andiamo un po' in giù qua, perché ha parlato della Martesana, anzi il Martesana, il Naviglio Martesana, fondamentale per il vostro quartiere, simbolo quasi del vostro quartiere, che però appunto unisce in realtà alcuni di questi vecchi comuni di Milano. Quanto appunto è importante la o il Martesana, promiscierei tu come devo dirlo, per il vostro, per Gorla? Dunque, innanzitutto il Martesana, perché la Martesana è il territorio attraversato dal Naviglio. Oh, vedi la spiegazione è giusta, quindi è il Naviglio Martesana. L'importanza del Naviglio per Gorla è stata fondamentale, perché innanzitutto sono più di 500 anni che ci collega con Milano per via d'acqua, quindi in qualche modo eravamo già milanesi 500 anni fa, o almeno abbiamo incominciato a esserlo già 500 anni fa. Per cui, quando c'è stata l'unione con il Comune di Milano, praticamente lo shock, più che dal punto di vista emotivo, è stato dal punto di vista organizzativo, perché tutte le attività che si svolgevano via d'acqua su Martesana erano state assunte da ferrovie, mezzi di trasporto diversi, per cui il modo di vivere delle persone stava cambiando, accentuata soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale, che aveva provocato un enorme sviluppo di tutte le industrie che erano legate all'acqua e poi alla guerra all'epoca. Carlo, Gorla domani, cosa fate? Proprio poi tutti i giorni in quel di Gorla tenete vivo questo quartiere, appunto come diciamo, non solo nella memoria ma anche appunto in un... Allora, diciamo che abbiamo praticamente due aspetti fondamentali. Uno è la cultura, quindi tutte le iniziative culturali che possiamo portare avanti, non solo sulla storia del quartiere chiaramente, ma allargando un po' gli orizzonti, Enzo l'ha già detto, prendiamo ad esempio tutta la storia del Martesana, quello che c'è stato e quello che attualmente c'è. La parte culturale ha un grosso peso perché, e qui ancora grazie alla grande attività di Enzo e degli altri amici di Gorla domani, da alcuni anni si fanno delle iniziative sulle scuole elementari e medie del plesso qui del quartiere e queste iniziative sono un po' per far partecipare i bambini e poi i loro genitori a quello che è il quartiere, quindi di conoscerlo, di conoscere la storia e un po' quello di fare aggregazione. Questa è un'attività che ci è stata riconosciuta dal Comune e dal Municipio 2 perché è come molto meritoria. Non solo il Comune però ve l'ha riconosciuta questa capacità perché cosa è successo, Walter raccontaci un po' cosa è successo agli amici di Gorla domani, l'IA 18 giusto? Sì, diciamo che gli è stato riconosciuto il premio alla virtù civica Panettone d'Oro che è un'iniziativa promossa dal coordinamento dei comitati milanesi e poi tante altre organizzazioni. Allora adesso ve lo dico un po' vantando, in questo momento qui avete tutti i panettoni d'oro perché Walter Cherubini, Panettone d'Oro con la consulta periferia a Milano giusto? Unitamente proprio nello stesso anno di Gorla domani. Milano News, Panettone d'Oro 2022, quindi insomma siamo contenti qua e vi do questa notizia non si mangia il panettone però non è vero, io speravo fosse un panettone glassato d'oro invece sono rimasto molto male e chiedo a Capanzano nelle prossime edizioni invece di farmi un panettone vero. Al momento della premiazione che sarà ai primi giorni di febbraio appunto in concomitanza con San Biagio, il panettone c'è sempre, quindi sappiatelo che se venite il panettone vero c'è. Walter, questo è un ex comune, ora lo potremmo chiamare Borgo, ma ricordiamo la differenza importante ricordarci che erano comuni, indipendenti, veri e propri comuni, che fa vedere ancora molto se tu ci vieni qua sembra veramente di stare quasi a volte in un altro comune, ma non è così però e quindi sarebbe un po' da ripensare a come vengono curati e amministrati questi territori, giusto? Allora il tema che poneva Gorla domani prima che era quella di un'attenzione verso le scuole perché c'è un tema che Milano non conosce Milano e quindi se i milanesi, poi noi siamo anche, teniamo conto che su quasi attualmente un milione e quattrocentomila residenti più di 280 mila sono stranieri proprio, poi quelli che risiedono adesso non è che siano autoctoni milanesi da generazione e quant'altro, non è così? E quindi si sono persi magari lungo la storia alcuni pezzi. Il problema di fondo è che proprio per esempio il momento dell'aggregazione, quel periodo che va dal 1923 dietro al 1873, 50 anni di storia di Milano e del comune di Milano, il comune di Milano potremmo diciamo retrodatarlo già agli inizi dell'anno 1000, però rimaniamo dopo l'unità d'Italia. Allora ci sono questi 50 anni di storia che non sono insegnati né geograficamente e quindi nemmeno amministrativamente. Quindi una persona, se sta Gorla, probabilmente nel piano di insegnamento delle scuole elementari e medie c'è qualche sottolineatura sull'ambiente circostante, però uno che sta Gorla non sa niente di Lambrate, appunto quando noi parliamo della Martesana, lo confondiamo con il Martesana perché ci viene insegnato che ci sono gli affluenti del Po, la Dora Balte e la Dora Ricaria che sono un attimino più distanti, però parlare di Seveso, parlare di Lambro, parlare di Martesana che sono importanti anche perché per esempio il Lambro e il Seveso ogni tanto esondano, quindi sono fatti dell'oggi, quindi anche chi diventa grande, assume delle responsabilità aziendali, amministrative, non conosce la città e quindi deve imparare che cos'è che accade? Che siccome Milano è una metropoli, seppur piccola, però abbastanza articolata e ha tutta una serie di problematiche, si corre dietro i problemi e non si ha tempo invece di capire com'è fatta la città. Ecco, questo è un elemento quindi che noi dobbiamo riprogrammare proprio come insegnamento didattico, questo aspetto geografico amministrativo della città di Milano che è cambiata completamente nel 1923 più che raddoppiando il territorio. E allora adesso chiedo a Cristina di girarsi completamente di 360 gradi, anzi 180 e riprendere quello che abbiamo qui davanti, andiamoci invece, andiamo verso e chiedo appunto a Carlo di raccontarci che cosa stiamo vedendo, quello che vediamo, che avanti e cos'è? No, prego per Cristina, vai pure avanti, anticipaci, passa avanti, passa avanti. Il convento di clausura che è stato costruito su disegno dell'architetto Muzio che è molto noto anche in Terra Santa ed è stato costruito diciamo in ricordo delle vittime del bombardamento di Gorla del 1944, è stato costruito negli anni 50 e attualmente abitato da non so quante suore, comunque è abitato da parecchie suore. Ecco, questa è un'altra di quelle testimonianze del, i milanesi non conoscono Milano, io sfido chiunque a sapere che qui, dietro, in questo angolo di paradiso che è tra il Martesana e appunto la piazza dei piccoli martiri di Gorla, ci fosse questo piccolo gioiello. Non so se si può filmare all'interno della chiesa che varrebbe la pena. Non credo abbiamo i permessi questa volta ma però chiederemo proprio avanti nel caso. E allora io direi che da qui possiamo benissimo concludere la nostra puntata di quest'oggi ricordando prima di tutto Gorla Domani, se vogliamo sapere di più, dove possiamo trovare mi racconta un po'. C'è il sito, si chiama Gorla Domani quindi basta andare su internet e cercare www.gorladomani.it Ok, tante iniziative che fate appunto, tante iniziative che arrivano. Perché hanno fatto un'iniziativa che è anche piuttosto strutturata e quindi per esempio hanno individuato se non ricordo male sei percorsi che quindi possono essere fatti assieme agli amici di Gorla Domani ma anche una persona sola va, prende, va sul sito e c'è tutta la spiegazione e quindi è un lavoro proprio per metodologicamente adeguato per conoscere Milano e in particolare questa parte di Milano soprattutto per chi abita dall'altra parte di Milano perché i milanesi appunto non conoscono Milano. Infatti, e anche secondo me molti che anche abitano da queste parti magari come dicevano il buon visino della riva dicevano anche loro appunto che anche i milanesi insomma dormono un po' così. Com'è che era la frase giusta? Nel sonno degli ignoranti. Nel sonno degli ignoranti, perfetto. E allora io vi ringrazio davvero, grazie a Gorla Domani, grazie davvero sia per questa intervista sia per il nostro giro ma sia soprattutto per quello che fate in questo territorio per tenere viva appunto l'identità di Gorla. Grazie Walter, ci vediamo nel prossimo comune allora. Nel prossimo appuntamento, certamente. Anche a voi, alla prossima!